ciao ti piace come intro? si è perfetta allora ciao oggi siamo su un modpack che si chiama stoneblock con sto tizio basta va bene come intro vai con la sigla oggi siamo qui con green and blue g in una serie allora praticamente su questo modpack a parte che c'è due quest e io non l'ho ancora fatta spaviamo in questo spazio di buco che è l'unico punto d'aria in tutto il mondo e da qua ci espandiamo in tutto il mondo allora visto che il gabby g del passato non sa spiegare lo faccio io stoneblock è un modpack tecnico ispirato alla famosissima modalità skyblock dove però invece di iniziare da un'isoletta in un mondo vuoto il punto d'inizio è l'unico spazio dove è possibile respirare l'obiettivo di questa serie è quello di completare tutte le varie quest comunque se abbiamo l'inventario ci abbiamo l'anei che è tipo too many items versione moderna che ci tornerà un sacco utile per i crafting per cose forse per minuti fa vedere come si usano gli oggetti quindi ah devo la devo aprire questa si tasto destro allora mettiamo questa good rewards mi è andato un black lotus mostro con la cobblestone possiamo craftare il crafting table come si crafta? con la cobblestone con 4 cobblestone lo ho fatto io aveva dato 64.000 storage disk ah no questo è complete questo è complete di refined storage ecco la mano si scava più velocemente allora l'altra quest è di farla a terra mi ha dato un'altra loot chest con fluid display 8 allora terra può essere ottenuta rompendo blocchi con un martello crafta un martello di stone e inizia a distruggere così già che la stone diventa cobblestone, che diventa gravel, che diventa terra, che diventa sabbia, che diventa dust com'è che dobbiamo prendere la terra? eh con un stone hammer vediamo se com'è che si crafta lo stone hammer cerchiamolo nel two many items esatto abbiamo il bastone esatto stone hammer con bastoni e cobblestone e sti bastoni come a stone hammer ecco ok allora con la cobblestone possiamo craftare i bastoni e poi e bastoni ok quindi con la cobblestone è come se fosse il legno praticamente si ok metti un oggetto nella crafting table perchè? metti un oggetto compare sopra oddio è sincronizzato oddio ecco il martello ok abbiamo l'hammer se rompi la cobblestone teoricamente ti fa la gravel e poi la terra ok ok faccio un attimo pure io cos'è? solo io qua vedo un blocco di gravel iper mega buggato si ah ecco qua io ho yellow rite ore dell'extreme reactors 12 di yellow rite ah loot chest epic bacon ma domanda se c'è f7 siiii abbiamo la quest se per me f7 ti fa vedere tutti i blocchi dove possono spawnare i mob veramente? si bellissimo quindi questo potrebbe essere utile se facciamo tipo un mob spawner mi ha dato un altro black lotus eh aspetta fammi quindi ora sono a 32 di black lotus con questo stone crook che posso fare? io ho i alchemical back della project t questi sono fantastici infatti è reward ultra raro allora ti do andiamo a vedere qua è uno zainetto essenzialmente ah più l'ho fatta solo no quello bellissimo e questo qua se mi ricordo bene quando muori te lo te lo tiene lo stesso quindi anche se perdi lo zaino ansied te lo ricorda ti dobbiamo fare guarda quanti tipi di sape in diversi un po' spett oddio allora come facciamo tenere tecnica la scrittura nella semplice sarà ottenuta il bimbo e che invece con un crook eh esatto ah ok quindi c'è scritto ecco mi dai il ah poi c'è scritto come si ottengono eh sì ah sì sì c'è scritto qua sopra ok ok riusciamo a finirla allora io c'ho due no tre si apriam di hawk uno di giungla e uno di acacia quindi con l'hawk sono a posto spruzzo sono a posto perci sono a posto jungle sono a posto mi mancano uno di acacia e uno di dark walk eh te l'ho droppato ah grazie e dovrei fare un altro martello ecco fatto questo è completo loot chest claim che cos'è questo? upgrade speed? avrà fatto un altro martello un po' ma fa porna chest in qualche modo epic back mi ha dato pure a me dell'harvest craft no vediamo un po' come legno eh che legno ma giustamente con con la dirt possiamo piantare i sapling ah giusto e ottenere il legno ma scopriremo pure se c'è la tricapitator che ti fa rompere i gli alberi con una sola una botta sola se fai il cretino davanti al sapling che incresce prima veramente eh credo di sì che cos'è questo? eh appunto vabbè ma vediamo se facciamo così no e c'hai? ah e ti ho dato restring e fai la quest allora quest unclaimed mi ha dato dei cosmetici mi ha dato degli occhiali io c'ho change cube di change cubes attenzione che non apri questo vicino alla tua base dammi i miei occhiali scusami allora sto coso qua lasciando la chest che ho paura di quello che può succedere allora adesso teoricamente posso rompere questa chest sta crafting table di stone adesso ma ti faccio vedere una cosa bellissima la tinker's construct introduce che bello i miei occhiali guarda apri sta nuova crafting table che è andata sulla crafting station ok eh beh bello cioè la chest la chest più vicina te la fa vedere bellissimo questa è la magia della tinker's construct oh ma io mi mangio uno di questi eh mangio mmm stencil cosa dobbiamo fare le cose della tinker's construct con legno quindi stencil table tool station ci servono aspetta uno due tre no ci servono due crafting table e due chest ok ok vai claim tanto piaci di tutti sti quasi pure tu così si ok ah vedi ok allora io c'ho un black lotus pure io sieve heavy hawk sieve no io voglio sieve normale no no lo stavo craftando io ok ma piazzalo qua vicino tieni tieni fai la cosa ah si giusto ok io c'ho un altro bacon epico tieni sto non c'è se il giudice timati da lentezza c'è scritto ma veramente ma c'è scritto e mi dice ce l'ho lentezza lo so ti da lentezza è giusto che di pietra è pesante da portare però ti protegge un po' eh vabbè io non c'è nessuno qua al momento quindi infatti però non l'avevo letto che dava lentezza ma ma stu cosa qua log e slab possiamo fare sto hawk cronchible per fare la questa ah ecco ho fatto un'altra quest tieni ho fatto questa cosa qua tieni dammi per la quest ok cos'è questo? compact giant chance cube io c'ho upgrade speed magical della extra utilities 2 questo qua che serve? ah forse su questo puoi mettere la lava generation no stiamo un po' no io direi facciamo una mob farm visto che c'è la quest mob farm richiede rotten flash certo buona tanto però smelterly questa ah per smelterly tanto sto fertilizzante floreale ci serve il bone meal con le ossa ci facciamo la mob ci facciamo la mob farm otteniamo le ossa craftiamo il bone meal e con il bone meal prendiamo dei coloranti non so come e e facciamo questo fertilizzante floreale e una domanda se invece di bucare e fare espandere tutti i muri facciamo un tunnel uno per due e poi mettiamo un'altra stanza? si ci può fare comunque ok io voglio provare sta crafting table o una stick ma la craft tanto la crafting table in più non fa mai male state ferme allora io ho la crafting table o una stick che è una crafting table portatile che figa che figa vabbè scaviamo per fare il mod spawn ah guarda qua cosa abbiamo che sono le cuffie no questa lascialo perdere quello tieni questo ah cosa l'ha messo sul sieve mi sa tu fai la cosa black lotus sempre flint mesh ce l'abbiamo flint? ce l'abbiamo la flint? no quella grave la possiamo questo si mette qua e mo mo si può si si può mettere nel sieve la dust guarda qua ah è che bello e cosa boh dovrebbe darti qualcosa ok mi ha dato silver ore p pezzo di ore di silver questo ogni tanto ti da qualcosa questo coso puoi farci qui un chunk di silver ore che può essere utilizzato per fare il silver allora ah possiamo fare aspetta possiamo prendere dei sapling eh ecco lascio uno così possiamo fare crescere un albero metterlo qua dentro e si crea l'acqua quindi possiamo fare il water bucket si ok senza ferro come lo facciamo? non lo facciamo ecco quindi allora che stai facendo? niente stai facendo il coglione che so eeeh scusa ma per far spawnare i mob cosa dobbiamo fare? eh possiamo andare in cretio mentre non stiamo registrando e li facciamo spawnare però io li vorrei far spawnare survival eh questo è il problema eh aspettiamo che spawnano se no oh guarda è spawnato un mob che coincidenza problema ok mica ne possono spawnare 70 eh no ma almeno uno lo voglio io se no eh noi abbiamo questo qua ne dobbiamo fare 12 rotten flash 6 ossa e 2 ender pearl eh allora eeeh io vi saluto ciao eeeh ciao non lo so fare non lo so fare non lo so fare non è chi ciao ciao